Ho scelto Myanmar perché è un posto dove è molto colpito dell'AIDS e non si parla tanto di questo paese, allora ho avuto la possibilità con la Fondazione Milan e con la Fondazione dei Messiasi della Frontiera di andare a aiutare questa gente e l'ho fatto con piacere. C'è tanta povertà in questo paese e la gente ogni giorno si alza con il sorriso, allora ho visto tante persone di qua che fanno le cure, persone malate e sono sempre con il sorriso e questo mi ha colpito di più. È importante provare ad aiutare al massimo tutta questa gente e questo ognuno lo può fare, l'ho fatto con l'Associazione Milan, l'ho fatto con la Fondazione dei Messiasi della Frontiera, ma ognuno di noi può fare un gesto, può dare un po' del suo tempo per aiutare queste persone che sono in difficoltà.